Il lavoro del rispettore in incognito comincia dall'ingresso in albergo. Morning? Morning. Ha sorriso? L'impiegato aveva un uniforme pulita e stirata? Era un 5 stelle, uno del fuori del comune. Buongiorno, signora Lorenzi. Sono le 8 del mattino e la temperatura esterna è di 18 gradi. Questo lavoro è per gente che non deve avere problemi di disponibilità, di mariti, di figli, di fidanzate. Sì, ho capito. Sono il tuo ispettore ideale perché non ho una vita. Ma lo sai che in fondo noi abbiamo un lavoro molto simile? Sì, solo che io sto sempre qua e tu dall'altra parte del mondo. Guarda che per costruire un rapporto profondo ci vuole molto ma molto più impegno di quello che ci metti tu. All this display of opulence is just a stage set. Real luxury is the pleasure of a real life lived to the full and full of imperfections. Adesso che state per lasciare l'ambiente in cui avete soggiornato, prendetevi qualche secondo per ragionare su questa esperienza. Fidatevi del vostro istinto. Questo viaggio è il vostro. Sta a voi scegliere come farlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.